Bentornati viaggiatori, oggi i nostri racconti ci condurranno sulla piana di Troia scoprendo ciò che accatte il dodicesimo giorno dopo che ai troiani fu dato modo di piangere il loro amato principe Ettore e quando i combattimenti infine ripresero. Questi non sono eventi narrati da Omero nella sua Eliade ma possiamo scoprirli in tutto un ciclo narrativo composto da altri poeti che ci racconta come terminò la famosa guerra di Troia. Con la perdita del grande condottiero Ettore la guerra sembrava ormai vinta dagli Achei ma nuovi alleati giunsero in aiuto del vecchio re Priamo dando nuova vitalità al conflitto. Una di essi era Pentesilea la regina delle Amazzoni figlia di Ares. Arrivò a Troia con l'intento di purificarsi da un delitto commesso per errore. Aveva infatti ucciso la sorella Ippolita durante il banchetto nuziale di Teseo quando tutti erano in preda al troppo vino ed era seguita una rissa provocata dai rozzi centauri. Le rinni, spiriti furiosi che perseguitano coloro che si macchiano del sangue dei congiunti, non le davano tregua e scoprì che il solo modo per placarle consisteva nell'aiutare Priamo. Perciò si mise in viaggio. Quando si accorse che la città era sotto assedio e che si stavano tenendo i riti funebri per il principe Ettore, Pentesilea promise al sovrano che avrebbe ucciso Achille. La regina delle Amazzoni, nonché figlia del dio della guerra, era indubbiamente un abile combattente, tanto che riuscì a tener testa al gigantesco e feroce Ajace Telamonio e ad uccidere Macaone. La scomparsa di quest'ultimo fu una grave perdita per gli Achei, dal momento che era figlio del dio della medicina Asclepio e si prendeva cura dei feriti. In mezzo alla mischia, Pentesilea però cercava Achille e finalmente lo incontrò, preparandosi a duellare. Era interamente ricoperta dall'armatura, perciò l'eroe non si accorse di essere sfidato da una donna, quindi non si tirò indietro e affrontò uno dei duelli che lo misero più in difficoltà. Pentesilea era agile e letale e mentre parava i suoi colpi, Achille cominciò a provare molta stima per quel guerriero sconosciuto. Rischiò un paio di volte di essere infilzato dalla sua lancia, ma infine, in un impeto di rabbia, riuscì a uccidere il suo avversario. Non ho mai visto questo combattente fino ad ora, mormorò, osservandone l'elaborata armatura. Forse è un nuovo alleato dei troiani. Sono curioso di sapere chi sia. Solo Ettore fino ad oggi era riuscito a contrastarmi con tanto valore. Con questi pensieri in testa, tolse l'elmo al nemico abbattuto, restando stupefatto nel notare i lunghi e morbidi capelli e il viso delicato. Quel guerriero era in realtà una fanciulla e la più bella che avesse mai visto. Sconvolto da questa scoperta, si pentì di aver dato la morte a una donna che non solo era avvenente, ma persino coraggiosa e battagliera. Si chinò su di lei, rapito da tanta bellezza, nonostante non ci fosse più vita in quelle membra. Con gli occhi gonfi di lacrime, per quanto aveva fatto, cominciò a baciare Pentesilea, stringendola a sé e desiderando che potesse tornare in vita. Tersite, un soldato zoppo e meschino, notò il mermidone avvinghiato a un cadavere e sogghignò di fronte a quella dimostrazione di debolezza. Quando l'ondata di sentimenti che aveva travolto Achille si placò, l'eroe chiamò a raccolta alcuni soldati per dare a quella splendida fanciulla una degna sepoltura. I Tersite fu tra quelli. Mentre trasportava il corpo, tuttavia, lo storpio non fece che prendersi gioco di Achille. D'accordo, è bellissima, ma è morta, ridacchiò. Dovevate vedere il modo in cui la stringeva e la baciava, davvero uno spettacolo macabro. Non contento, lo sporgevole soldato deturpò il corpo di Pentesilea, cavandole gli occhi. Achille notò l'orrendo gesto e non riuscì a trattenere la propria rabbia. Sferrò a Tersite un pugno così carico d'odio che non solo gli fece saltare tutti i denti, ma lo lasciò lungo disteso al suolo, privo di vita. Quel repentino e violento gesto nei confronti di un compagno d'arme indignò gli Achei. Diomede, cugino di Tersite, si levò furente. Hai ucciso un tuo alleato per amore di un cadavere? Questo è inaccettabile, gridò, prendendo il corpo freddo di Pentesilea e gettandolo nel fiume Scamandro con disprezzo. Spero che tu abbia intenzione di purificarti per un simile tradimento, continuò con tono severo. Vai a pregare al Tempio di Apollo e chiedi perdono per il tuo atto disonorevole. Achille non era pentito di aver ucciso quello spreggevole storpio, ma si rendeva conto della gravità del suo gesto. Aveva ucciso un membro del suo stesso esercito e perciò doveva purificarsi. Prima di partire per l'Esbo, dove avrebbe pregato al Tempio di Apollo e Artemide, si recò però sulle rive dello Scamandro, alla ricerca del corpo di Pentesilea, al quale diede una degna sepoltura. L'unico che si oppose alla sua partenza fu Ulisse, preoccupato per le sorti della guerra. Priamo ha chiamato nuove forze alleate, non possiamo privarci del nostro miglior guerriero. Tersite era un pessimo soldato, era vile e meschino e non aspettava che di voltare le spalle al nemico e tornarsene a casa. Ormai Achille ha fatto voto di purificarsi al Tempio di Lesbo, ma quando tornerà non fate più parola di questo incidente, ci serve la sua forza se vogliamo abbattere le mura di Troia. L'astuto Ulisse aveva ragione a temere i nuovi alleati di Priamo, perché proprio mentre il Pelide si trovava lontano dalla Troade, giunse un enorme contingente di nuovi nemici. Stavolta non si trattava di un gruppo di esigue ma guerrite amazzoni, bensì di un esercito formato da etiopi, persiani, indiani e assiri, uniti sotto il vessillo di Memnone, re d'Etiopia. Costui era cugino di Priamo, in quanto figlio di suo fratello Titone e di Eos, la dea dell'Aurora. La sua pelle era scura, perché da bambino si era bruciato quando la madre lo aveva accompagnato sul divino carro solare. Si era trasferito in una reggia a Susa, in Persia, ampliando sempre più il proprio regno, anche grazie ad Eracle, che uccise alcuni sovrani rivali e poi lasciò i vasti territori nelle mani di Memnone, che giudicava saggio e gentile. Trattandosi di un semidio, aveva armi e armature forgiate dagli dèi, proprio come quelle di Achille. L'arrivo di questo nuovo contingente segnò la ripresa dei Troiani, che tornarono a fare strage di guerrieri greci approfittando dell'assenza del Mermidone. Ajace Telamonio, famoso per la sua forza, cercò di fermare il re Etiope, ma venne ferito nello scontro. Nessuno fino ad allora era stato in grado di scalfire il possente eroe, protetto da uno scudo foderato con la pelle di sette tori. Memnone si avventò poi contro Nestore, il saggio veterano, che chiamò aiuto, sapendo benissimo di non poter opporre resistenza a un simile avversario. Memnone scagliò il giavellotto, mirando al petto di Nestore, ma all'ultimo momento si frappose il figlio Antiloco, che morì facendo da scudo al vecchio padre. Quando Achille tornò all'accampamento dopo la purificazione rituale al Tempio di Lesbo, rugì di dolore, scoprendo che il caro amico Antiloco era morto sotto i colpi di quel nuovo nemico. Lo andò a cercare sul campo di battaglia, sfidandolo a duello. Memnone non aveva paura di Achille, in quanto a sua volta era figlio di un uomo di nobile stirpe e di una dea. Nonostante Teti avesse bagnato suo figlio nelle acque dell'ostige per renderlo invulnerabile, lasciando fuori solo un punto del tallone dal quale lo aveva sorretto, l'eroe notò ben presto che le armi divine del suo nuovo avversario erano in grado di ferirlo. Per la prima volta la sua pelle venne lacerata, ma la consapevolezza di essere in pericolo, anziché spaventarlo, gli diede molta più grinta. Achille caricò tutte le proprie forze e decapitò Memnone con un sol colpo, mentre il cielo si tingeva di nero e la dea Eos piangeva lacrime amare. Per giorni il campo di battaglia fu ricoperto di Brina era il pianto della dea Aurora per la perdita del figlio. L'esercito che Memnone aveva portato da Oriente si scompaginò alla sua morte e lasciò la piana di Troia, togliendo a Priamo i suoi alleati più pericolosi. Alla notizia della morte di Memnone le sue numerose mogli piansero e si straziarono, al punto che Zeus ne ebbe pietà e le trasformò in uno stormo di uccelli. Ogni anno, ancora oggi, le Memnonidi sorvolano la Troade e si disperano, lanciando alte grida. Ebbene avventurieri, come saprete l'Iliade racconta solo alcuni giorni della grande guerra sotto le mura di Ilio. Perciò ho pensato di raccontare questa storia dall'inizio, partendo proprio dalla fondazione di Troia, arrivando fino al suo tramonto, al momento in cui cadde. E trovate questa storia all'interno del volume Canta mio diva, Iliade dall'alba al tramonto di Troia, di cui vi lascio il link in descrizione. Detto questo vi invito a seguire il mio canale e a non perdere d'occhio le storie di Instagram perché è da lì che sceglieremo il prossimo racconto. Detto questo, viaggiatori, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro.